buongiorno brevissimo tutorial per vedere come confrontare due video o due audio con il programma gratuito vlc media player che appunto il produttore più usato sia per i video sia per gli audio dunque facciamo un esempio pratico io per esempio voglio confrontare questi due video il mio programma ha prevenito per aprire video e vlc faccio un doppio clic su uno di questi video e si aprirà su vlc dai lo stop poi faccio un doppio clic sul secondo video che mi succede e si apre ancora su vlc però come vedete ci sarà sempre una sola istanza io magari posso andare su visualizza scaletta posso passare dal primo video al secondo video però non li posso vedere affiancati uno accanto all'altro per poterli confrontare come si fa per creare due o più istanze di vlc bisogna cambiargli le impostazioni quindi si apre vlc questo vlc si va su strumenti preferenze oppure si utilizza la scorciatore della tastiera tt rl più p è uguale si apre e si va sulla scheda interfaccia si scorre fino arrivare a scaletta e istanze qui ci sono vedete due opzioni che sono spuntate di depo e sono cosenti una sola istanza è questo appunto che fa sì che si vede soltanto una sola finestra di vlc la seconda opzione meno importante ma anche questa fondamentale usa una sola istanza quando si inizia dal gestore di file cioè quando si fa un doppio clic sul file da aprire con vlc quindi noi cosa bisogna fare bisogna togliere la spunta a queste due opzioni alla prima sicuramente la seconda è più opzionale e si va su save a questo punto noi possiamo confrontare i due video in oggetto lo si può fare anche con i due audio naturalmente se io apro esplora file cerco due video adesso io clicco sul primo video e si apre in una istanza clicco sul secondo video e si apre in una seconda istanza come vedete ci sono due istanze di vlc due istanze e allora io posso eventualmente confrontarle sposto sulla destra una istanza clicco sulla sinistra ecco quindi che io posso fare andare il video sulla sinistra e il video sulla destra per poterli confrontare eventualmente secondo per secondo per vedere le differenze semplice che può essere utile nel caso in cui magari per vedere se un video ha qualche differenza rispetto a un'altra in caso di conflitto di proprietà se uno magari ha violato il copyright di un altro eccetera eccetera e questo è tutto alla prossima volta